Ancora una volta il tempo ci è stato d'aiuto, ha favorito una partecipazione straordinaria sotto tutti i punti di vista. Io ho avuto modo di girare molti cantieri e devo dire ho riscontrato non solo la grande partecipazione in termini numerici ma proprio l'entusiasmo da parte delle persone che hanno dedicato una giornata per la loro città, per renderla più bella e credo che questa sia un'esperienza che ormai è partita così, insomma come una scommessa ma credo che ormai non si potrà più rinunciare a pulizia di primavera nella nostra città. Questi cinque anni, dalla prima edizione, che cosa è cambiato secondo lei? Che abbiamo sempre più affinato gli aspetti di carattere organizzativo, che con il numero di persone ovviamente sono anche cresciute non le difficoltà però dal punto di vista organizzativo la necessità di mettere a punto un sistema che garantisse effettivamente il risultato perché è guai a noi se dovessimo venire meno nel consegnare il materiale, nel poter assistere tutte queste persone. L'unica cosa che è rimasta invariata è il grande entusiasmo da parte delle persone che davvero ogni volta dimostrano di apprezzare questa iniziativa e anzi tutti mi chiedono allora la conferma per l'anno dopo, ci sono anche quelli che dicono ma sindaco perché non ne facciamo magari una a metà anno perché lo sforzo organizzativo è davvero notevole.